grande fratello violazione grave del regolamento richiesta la squalifica di anita olivieri e veniamo adesso a quanto accaduto ieri al grande fratello in quanto è accaduta una cosa che agli attenti osservatori del web non è assolutamente passata inosservata ci riferiamo ovviamente a anita olivieri la ragazza di formello ha infatti ricevuto ieri per san valentino una gradita visita ossia quella del fidanzato edoardo invitato in trasmissione dal conduttore alfonso signorini edoardo e anita olivieri sono stati quindi fatti incontrare dentro il giardino della casa per farli ritrovare e questo è accaduto ed è stato oggettivamente bello ma qualcosa che non doveva accadere è purtroppo anche questa accaduta e non è passata inosservata alla lente del web e dei social ossia che il fidanzato abbia passato un bigliettino nelle mani di anita olivieri lo stesso bigliettino che poi dopo anita olivieri si è messa a leggere mentre si trovava dentro la casa come testimoniano le immagini ossia una palese violazione del regolamento del grande fratello oltretutto si tratterebbe di una recidiva in quanto la stessa aveva già ricevuto informazioni dalla madre che aveva messo un bigliettino nelle medicine inviate a lei ovviamente in queste ore in molti chiedono la squalifica in quanto proprio per il motivo che si tratterebbe di una cosa recidiva vedremo nei prossimi giorni che decisione prenderanno in merito la redazione di signorini grazie a tutti